È mancata secondo me la lucidità di gestire meglio, di comandare meglio la partita ed è mancata soprattutto la precisione tecnica che ci poteva permettere di essere più pericolosi. Che i nostri tifosi siano fantastici per il sostegno, per la passione che ci continuano a trasferire, questo assolutamente sì, poi è chiaro che non siamo riusciti a vincere la partita, non siamo riusciti a mettere in campo la nostra prestazione migliore, quindi dispiace per tutti. Ma tutte le partite ti insegnano qualcosa, sicuramente noi dobbiamo stare un po' meglio in campo, con più lucidità, cercare di essere un po' più compatti, cercare di comandare un po' più la partita, mentre a volte siamo stati troppo frenetici e questo ha fatto sì che la squadra si allungasse, perché quando ti allunghi i spazi diventano grandi ed è difficile comandare la partita. Secondo me l'approccio della partita è stato giusto, perché se no non avevamo fatto il gol così presto, però dovevamo continuare, dovevamo chiudere la partita, sicuramente abbiamo provato, abbiamo cercato il secondo gol, però non siamo riusciti. No, noi adesso dobbiamo giocare ogni partita come se fosse l'ultima, come se fosse una finale, sicuramente l'approccio deve essere questo, questa mentalità di giocare tutte le partite come se fosse l'ultima.